La presenza di un ministro dall'interno in occasione di una manifestazione pubblica per le forze dell'ordine può rappresentare, affinché il tutto si svolga senza intoppi, come ovvio che sia una pressione psicologica maggiore, visto e considerato che stiamo parlando del ministro titolare del di Castero che governa e garantisce l'ordine pubblico di una comunità. Ed a volte può manifestarsi nell'esercitare questo compito un eccesso di zelo, come in occasione del Mastery in Intelligence dal titolo a dieci anni dalla riforma risultati, queste in aperte, prospettive, svoltosi all'Università della Calabria e che ha visto proprio la presenza del ministro degli interni Marco Minniti. Un'università blindata, con qualche centinaia di forze dell'ordine tenuta antisommossa, ha accolto il ministro Minniti, mentre sul ponte un corteo con poco più di 60 antagonisti veniva bloccato e tenuto a debita distanza dall'aula Beniamina Andreatta, dove si è svolto per l'appunto il Master. Antagonisti che contestano da tempo i provvedimenti che Minniti ha previsto in materia di immigrazione, ma non vogliamo entrare nel merito della protesta, ma di come è stata gestita. Certo, gli ordini in questi casi vengono impartiti, come viene, dai vertici e bisogna seguirli, punto e basta. Ma forse questa volta una riflessione per come sono stati contenuti i manifestanti è il caso di farla, perché forse c'è stato un eccesso di zelo, come già detto all'inizio, con gli striscioni attaccati dai manifestanti sul ponte di fronte all'aula dove si è svolto il Master, strappati e cacciati dalle forze dell'ordine e qualche carica cosiddetta di contenimento contro, ripetiamo, i circa 60 manifestanti che forse si poteva evitare. Episodi che, e non è la prima volta che si verifica una cosa del genere, potrebbero incominciare a rappresentare un campanello di allarme in uno stato democratico come il nostro.